Ieri, in una nota inviata alla stampa e pubblicata subito dopo sul noto social network Facebook, Giuseppe Caudo, coordinatore del megafono e componente dell'ufficio di gabinetto del presidente della regione, Rosario Crocetta, comunicava la notizia di un finanziamento di oltre un milione di euro per la messa in sicurezza e completamento degli alloggi popolari di Via Regina del Cielo, a Fiumefreddo di Sicilia. Dal 1980, gli alloggi popolari in questione attendono il completamento. Un atto di cattiva gestione dei soldi pubblici, scrive Giuseppe Caudo, che oltre al danno di non mettere a disposizione questi alloggi in convenzione a giovani coppie, anziani, divorziati, famiglie monoreddito, sembrava farsi beffa delle amministrazioni locali che negli ultimi 30 anni non sono state in grado di risolvere la questione. Una meravigliosa notizia oggi per Fiumefreddo, continua Caudo nella nota, La Regione e l'Istituto Case Popolari di Catania hanno risolto definitivamente una delle vergogne del passato nel nostro territorio. Questo è comostro all'ingresso del paese che diventerà finalmente un'occasione per quanti si aspettano risposte dalla politica. Si creeranno le condizioni per dare questi 12 immobili a chi ne ha bisogno in un particolare momento economico come quello in cui viviamo. Giuseppe Caudo conclude ringraziando gli uffici degli ACP di Catania e l'assessore regionale Giovanni Pistorio per la pronta risposta alla cittadinanza. L'assessore ai lavori pubblici di Fiumefreddo Claudio Fiume, nell'esprimere tutta la propria soddisfazione per un finanziamento che si attendeva da anni e per il quale rivendica il merito dell'amministrazione comunale di Fiumefreddo, risponde prontamente a Giuseppe Caudo chiedendogli di chiarire la sua posizione in merito alla questione e di evitarne la strumentalizzazione. Il Comune risponde con piacere perché sommessamente lavoriamo per l'ottenimento di questo finanziamento da più di due anni. Per cui ci fa piacere che il signor Caudo abbia dato questa notizia in anteprima, potendo evidentemente attingere da fonti dirette. Non ci sorprende perché rientrava tra i nostri obiettivi e peraltro non più tardi di un mese fa mi sono incontrato con il neopresidente dell'IACP di Catania, il quale mi diceva appunto del finanziamento che peraltro è finalizzato a categorie diverse questa volta, non quindi a recuperare naturalmente questo complesso che non si è potuto ultimare per un motivo specifico, non si è potuto ultimare perché era stato costruito antilegge antisismica per cui sostanzialmente va fatto tutto un lavoro di recupero strutturale molto oneroso che finalmente è stato finanziato. Dopodiché l'utilizzo non sarà prettamente diretto alle famiglie basso reddito, nuclei familiari numerosi eccetera eccetera come solitamente accade, bensì ai nuovi poveri, i cosiddetti nuovi poveri, quindi ai divorziati, ai separati, agli sfrattati, altre categorie di soggetti analogamente bisognosi di un alloggio popolare.